Buongiorno e benvenuti alla telegiornale di Teleponte. Questa edizione del telegiornale va in onda in forma ridotta e senza servizi in video per uno stato di agitazione dichiarato dalla redazione di Teleponte. Chi legge è autorizzato dal comitato di redazione. E sulla avvertenza che riguarda Teleponte interviene con una nota il consigliere regionale del PD Sandro Mariani che scrive La crisi dichiarata con l'apertura dell'avvertenza di giornalisti e tecnici e personale tutto di Teleponte pone alle istituzioni, ai rappresentanti politici una serie di questioni. La prima, la più importante, dice Mariani, è il diritto all'informazione locale dei cittadini. La provincia di Teramo storicamente non ha mai dovuto rinunciare ad una o più televisioni. Esse sono state e sono il testimone degli accadimenti che riguardano l'intera collettività. Questo diritto dei cittadini, dice ancora Mariani, con il silenzio di Teleponte viene meno. Già in questi giorni di oscuramento il diritto è venuto meno. La seconda questione riguarda il dovere all'informazione che editore, direzione, giornalisti e personale tutto assumono quando, seppur con risorse solo in parte pubbliche, si propongono come fonte di informazione. Il loro dovere, dice ancora l'esponente del PD, oramai è informare. Non possono sottrarsi facilmente a questo. Terzo elemento su cui tutti dobbiamo lavorare è ovviamente il mantenimento dei livelli occupazionali e soprattutto delle professionalità che negli anni sono state sviluppate. Sono un patrimonio, come lo è Teleponte, che va salvato, dice ancora Mariani, che conclude. Per questi motivi, nell'esprimere vicinanza alla cittadinanza e a Teleponte, sto studiando in queste ore come rendermi utile sia sul piano personale che su quello istituzionale. La cronaca è finito l'anonimato del rapinatore seriale che minacciava le proprie vittime impugnando una siringa dicendosi affetto da IDS. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Alba Adriatica, in collaborazione con i colleghi delle stazioni di Tortoreto, Colonnella, Martinsicuro e Corropoli, nel corso della serata di ieri, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal GIP Giovanni De Rensis, su richiesta del PM Bruno Auriemma, per rapina aggravata nei confronti di Davide Marinucci, trentenno originario di San Benedetto del Tronto e residente a Colonnella. Al giovane vengono contestate quattro rapine eseguite con le stesse modalità in appena cinque giorni. Nei pressi del cimitero di Alba Adriatica, ai danni di una coppia di giovani, all'esterno di un bar di Tortoreto, ai danni di una donna, così come nei confronti di altre due donne, una ferma ad un distributore di benzina di Corropoli e davanti ai Bancomat di una banca di Martinsicuro. In tutti i casi i bottini non avevano superato i 50 euro. Solidarietà anti-esuberi alla Teramo Ambiente, stipendi più bassi per salvare tutti i posti di lavoro. Per un anno solidarietà dunque per tutti i dipendenti con percentuali diverse. Gli amministrativi fino al quarto livello dal 5 al 7%, dal quinto livello in su dal 7 al 15% e invece per gli operai il 3,84%. E per ora un'ipotesi di accordo che dovrà essere ratificata dall'Assemblea dei lavoratori TEAM in programma giovedì 12 alle 20 nella sede della CGL di Teramo. A Pastino di Tossicia, dopo l'allaccio della nuova conduttura con la rete adduttrice principale, la Ruzzo Reti S.p.a. riconsegna all'amministrazione comunale l'area in cui sono stati effettuati i lavori. Le opere di pianificazione per la messa in sicurezza della zona che le forti piogge dell'anno scorso fecero smottare determinando la rottura dell'impianto idrico e disagi per gran parte della popolazione teramana hanno consentito di ampliare lo spazio sovrastante a disposizione della collettività. La cerimonia di riconsegna simbolica dei lavori e di inaugurazione della nuova area, che sarà chiamata Piazza dell'Acqua, si terrà domani, domenica 8 maggio, alle ore 18. È stata approvata dall'Aggiunta regionale su proposta dell'assessore ai lavori pubblici Donato Di Matteo la delibera degli interventi in merito all'avviso pubblico relativo ai fondi FSC, risorse premiali per obiettivi della prima infanzia. La somma erogata per la riqualificazione delle strutture ammonta a quasi 4 milioni di euro. A Giulianova, per l'adeguamento sismico dell'asilo nido le coccinelle di zona Orti, sono stati assegnati 405 mila euro. L'area marina protetta del Cerrano mette in liquidazione la Cerrano Trade. La SRL ha chiuso il bilancio 2015 con 155 mila euro di perdite. I problemi, dice il vertice dell'area marina protetta, sono iniziati dal 2013 nel corso della gestione d'Orazio. Domani, con il patrocinio del Comune di Alba Adriatica, si svolgerà una manifestazione di carattere sportivo e di volontariato. Saranno coinvolti le sezioni volontari Protezione Civile Gran Sasso d'Italia, che eseguiranno dimostrazioni di intervento di protezione civile e di pronto soccorso con il coinvolgimento dei presidi locali della Croce Rossa, della Croce Bianca e della Croce Amica. In collaborazione con la FIBAB, la Federazione Italiana Pallavolo della provincia di Teramo e l'Associazione Beach Sport di Alba Adriatica, alcune società provinciali presenteranno note didattiche, tecniche e attività motorie del gioco del mini-volley. È prevista la presenza di un centinaio di ragazzi tra i 6 e i 12 anni. Festa di primavera e distilleria della memoria, questa sera alle 19.30 in piazza del Castello a Montone. La Proloco prosegue il suo percorso annuale di valorizzazione delle tradizioni locali e di coinvolgimento di tutto il territorio. E siamo allo sport. Questo weekend nel Girone B di Lega Pro si gioca l'ultima giornata della stagione regolare. Il Teramo è impegnato a Ponte d'Era. In Toscana i biancorossi di Vincenzo Vivarini devono fare punti per conservare l'ottavo posto in classifica, che garantirebbe l'accesso alla prossima Coppa Italia Team Cup. L'Aquila invece è di scena d'Apriglia sul campo della Lupa Roma. Impegno ininfluente per la classifica, visto che i rosso-blu sono già certi di affrontare i play-out, partendo dall'attuale terz'ultima posizione. Ricordiamo che tutte le gare avranno inizio alle 18 di domani pomeriggio. Intanto questa mattina in conferenza stampa il tecnico biancorosso ha rimandato alla prossima settimana tutte le notizie relative alla sua permanenza o meno alla guida del Teramo Calcio nella prossima stagione. Ultima giornata di campionato anche in Serie B maschile di palla a mano. Le due formazioni teramane, che sono appaiate in vetta con 54 punti, si giocano il primo posto della classifica finale. Il calendario riserva ad entrambe un impegno in trasferta. E torniamo al calcio, ultimi 90 minuti nella stagione regolare nel girone F di Serie D. Il San Nicolò si congeda dal pubblico amico affrontando la San Benedettese neopromossa nel calcio professionistico. Il Giulianova, già retrocesso, saluta invece la categoria in trasferta ad Ascoli Piceno sul campo del Monticelli. Per quanto riguarda le altre abruzzesi, il Chieti affronta la Jesina, la Vezzano ospita la Re Canatese, mentre la Miternina sfida fuori casa la Fermana. In eccellenza abruzzese domani pomeriggio è in programma la finale playoff tra Paterno e Pineto. Appuntamento alle 16 sul campo di città Sant'Angelo. Chi vince accede alla fase nazionale. In caso di parità al novantesimo ci saranno due tempi supplementari da 30 minuti. In caso di ulteriore parità a passare il turno saranno i Marsicani in virtù del miglior piazzamento finale ottenuto nella stagione regolare. Uguale regolamento anche nella semifinale playoff tra Montorio e Torrese in programma domani sempre alle 16. Chi vince condanna l'avversario alla retrocessione e accede allo spareggio salvezza con il Sambuceto. Il basket ieri sera in presa della McEnergy Roseto che si è giudicata gara 3 di playoff contro Ferentino. 89 a 76 il punteggio finale della squadra di coach Trullo che è stata trascinata a successo dal collettivo. Sono stati ben 5 gli uomini che hanno chiuso il match in doppia cifra. Con questa vittoria i rosetani hanno tenuta viva la serie che ora è sull'1 a 2 in favore dei Ciociari. Domani sera ci sarà gara 4 al Palavaggetti con fischio d'inizio alle 18. Quella di domani sarà una giornata cruciale anche per il Campli e la Metateramo. I Farnesi alle 18 giocheranno gara 3 di playoff contro l'amatori Pescara. Chi vince accede al turno successivo. La Metateramo in Serie C Silver riceve la visita del Cerignola per la seconda giornata dei playoff nazionali. Anche in questo caso il fischio d'inizio è per le 18. E con questo è tutto. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio. Grazie a tutti